65 milioni di euro, tanto ammontano i nuovi fondi stanziati dall'Unione Europea a favore dei rifugiati siriani. Gli aiuti economici decisi da Bruxelles saranno destinati ai profughi siriani che hanno trovato riparo all'interno come all'esterno delle frontiere del paese. Nel campo di Zaatari, nel nord della Giordania, sono quasi 200.000 le persone che sopravvivono grazie agli aiuti umanitari. Ma molto di più deve essere fatto, come ha spiegato ai microfoni di Euronews, il commissario europeo per gli aiuti umanitari, che ha visitato la struttura. Se all'interno della Siria è questione di trovare una soluzione politica per mettere fine agli scontri, per i paesi vicini possiamo già ora aiutare a dare stabilità. Secondo, mentre agiamo, mentre mettiamo più risorse, dobbiamo lavorare per migliorare l'efficienza degli aiuti. Attualmente i rifugiati siriani rappresentano il 10% della popolazione giordana, ma già dal 2014 potrebbero diventare il 40%.